Ma buongiorno ragazzi, allora è giunto quel momento, penso che l'ora sia giusta Per il video non editato di oggi andiamo a condividere o una gioia o un dolore Perché il tempo, Kronos, dice che quest'oggi è il giorno 22 E noi possiamo andare a controllare sul nostro Creator Studio, che non potrà farvi vedere Ma che comunque vedrete la mia reaction se andrà bene o no Per capire se gli strike sono stati rimossi o meno E se sono stati rimossi, sappiate che a riavretre, riavretre, tornerete ad avere insomma I video di tutto quest'anno e quello dell'anno scorso Andiamo a vedere, vi appoggio qua Mi si vede in faccia no? Sì Andiamo a controllare Momento della verità ragazzi, perché qui si decidono le sorti del canale YouTube, Google, YouTube Attenzione Potrebbe essere il momento Creato lo studio Non può essere monetizzato, limiti di età, limiti di età, questo lo sapevamo Ora Sarebbe bello sapere dove dove andare a vedere, perché qua una volta ti veniva fuori subito Ma qua non mi dice niente Teoricamente dovrebbe essere a posto, dovrei essere tranquillo, non dovrei più avere gli strike Perché mi veniva fuori subito e quindi ragazzi Nel video di oggi finalmente vi dico che l'attesa è finita Possiamo tornare a ricaricare i video ragazzi E' fantastico Allora, analytics controllo da tutte le parti ma Teoricamente mi sarebbe già venuto fuori come prima cosa E ciò vuol dire Che potremo ricaricare i video ragazzi Oh che bello, che bello, che bello Vediamo anche su copyright i richiesti rimozioni No, non c'è più niente Ragazzi Si gode Si va a godere E or dunque Entro lunedì ragazzi Cercherò Di farvi riavere Tutti i video Che avevo messo in privato Abbiamo vinto noi Ringrazio ancora Unico E Il grande Mickey Vapes Che mi hanno aiutato Abbiamo vinto noi Era giusto così Era giusto così Siamo stati sul filo del rasoio Per due mesi Se non di più Interi Nella speranza di vedere E arrivare Di vedere arrivare questo momento E ora Ho 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 We are back bitch Ce l'abbiamo fatta Quindi Entro lunedì Perché è un processo un po' lunghetto Cercherò di farvi riavere Tutti i video Del 2024 E vediamo Se riesco a ricaricare Ancora qualcosina Del passato Passato Ma onde evitare Preferisco caricare Anno per anno Faremo così Ogni anno Caricheremo E mettermi in privato Video vecchi E alcuni Li lasceremo Ovviamente Adesso so cosa devo fare Non fare Per evitare le Ire di Youtube E quindi Possiamo stare tranquilli E finalmente Rivivercela Serenamente Adesso Si può andare Tra l'altro Ho visto che Abbiamo riacquistato Anche Sì abbiamo anche Riacquistato un bel po' Di iscrizioni Si gode Si gode Perché Con questo Meraviglioso Shadowban Che Per tanti Non esiste Ma c'è Avevamo perso Più o meno Una ventina Di iscritti Che sono cose Che succedono Solitamente Su Youtube Non Succede Bah a me vado giù Se ogni giorno Ne perdevo Uno o due Che se no Potrebbero essere Canali disattivi Che Youtube Vede che non funzionano più Nessuno li utilizza Li cancella Oppure Non lo so Potrebbero essere Anche chiaramente Dei bot Che Metto già le mani avanti Io non ho comprato Ma ci sono anche Quelli che creano i bot Come quelli che vedete Nei commenti E E fortunatamente Vengono rimossi Sotto il mio canale A quanto pare No Però ce ne erano tanti Si vede Però Abbiamo ripreso Perché eravamo arrivati A 45.699 Siamo tornati A 45.716 Attenzione E quindi ragazzi Questo era il video di oggi La grande Bella notizia Tornerete ad avere i video Si gode Ragazzuoli Io spero che il video Vi sia piaciuto Vi mando un grosso bacio Continuiamo a lottare insieme E Mandi fantas Mi raccomando Fate i bravi